Buongiorno a tutti carissimi amici e amiche torno a postare un video dopo tre anni dal The Roby Show e torno a farlo perché me lo avete chiesto in tanti per presentare il mio romanzo Rivelazione della Sama 2017 come dentro una bottiglia volevo intanto ringraziarvi per il calore che mi state dando e per l'affetto comunque che mi avete dimostrato in questi mesi da quando il libro comunque è uscito in vendita sono tante le recensioni che ogni giorno mi arrivano e vi ringrazio di cuore perché comunque è un libro a cui tengo tantissimo che ho scritto veramente con il cuore e questo è importante perché se riuscite comunque a comprendere il messaggio e comunque quello che mi dite nelle recensioni è vero sono riuscito comunque a far attrapelare il messaggio come vedete come dentro una bottiglia volevo ringraziare intanto ancora una volta Matteo Gerardi autore di questa magnifica copertina come dentro una bottiglia è un romanzo come ho detto che è uscito ufficialmente quest'estate ma che comunque è stato scritto ho scritto durante il mio anno di servizio civile all'URD sì avete capito bene ho avuto la fortuna di trascorrere un anno bellissimo l'anno più bello della mia vita se così possiamo dire all'URD in compagnia di amici e amiche che voglio salutare durante quest'anno è nata questa esigenza di raccontare una storia vera una storia comunque che mi ha insegnato e sono sicuro che insegnerà anche a voi ad apprezzare ad apprezzare a vivere la vita ogni giorno ogni istante ogni secondo come dicevo il romanzo è tratto da una storia vera nasce da due incontri che ho fatto un incontro casuale con una donna un giorno mentre mi trovavo a fare il mio servizio a scegliere informazioni questa donna mi si avvicina e mi racconta la sua storia la storia di suo figlio un figlio che era morto da poco vittima di una malattia chiamata SLA sclerosi laterale amiotrofica una malattia purtroppo di cui si parla poco di cui si conosce molto poco nonostante ci sia un tasso alto di malati in Italia e anche nel mondo mi racconta la sua storia di come aveva visto il figlio lentamente immobilizzarsi perché comunque la malattia è una malattia neurodegenerativa che porta a una paralisi totale fino a toglierti anche la voce e il respiro stesso e quindi poi provocarti una morte lenta nonostante tutto comunque il cervello resta vigile quindi tu sei vigile e assisti impotente al triste epilogo che comunque la vita ti ha riservato in un certo qual modo ciò che mi colpì molto fu quando la donna mi parlò dei giudizi malvagi della gente che lo circondava che la circondava infatti molti sostenevano che il figlio meritasse quella malattia quel castigo per la vita che faceva prima perché secondo loro il figlio si drogava si ubriacava e quindi meritava quel castigo e quindi la malattia veniva vista come un castigo divino e ciò faceva male alla donna erano vere e proprie pugnalate al cuore di questa povera mamma la quale con le lacrime agli occhi mi disse mio figlio non ha mai bevuto non si è mai ubriacato faceva una vita normale faceva una vita di un ragazzo della sua età ed è brutto sentire dire queste cose proprio da quelli che il figlio riteneva poi gli amici e quindi mi ha chiesto con le lacrime agli occhi di parlare di raccontare che la malattia non deve essere vista come un castigo ma come anche una rinascita perché comunque la malattia ha cambiato in un certo qual modo la vita del figlio sotto alcuni punti di vista gli ha aperto gli occhi gli ha fatto comprendere tutte quelle cose che prima gli sembravano banali quelle cose che prima magari lui non aveva prestato attenzione ad esempio agli almi che al cielo azzurro ai flori del giardino a tal proposito mi viene in mente un altro incontro che ho fatto con una ragazza che era diventata da poco non vedente e ciò che mi colpì di questa ragazza disse ciò che mi manca di più da quando sono diventata cieca svegliarmi la mattina e alzare gli occhi al cielo vedere quel cielo azzurro le nuvole gli uccelli in volo e mi fece questa domanda mi ha detto a te è mai capitato la mattina di alzarti e come prima cosa aprire la finestra e guardare il cielo in tutta sincerità gli dissi no e lei mi disse ecco sei come tutti gli altri mi ha detto vi accorgete di una cosa quando quella cosa vi viene a mancare e questo mi fece molto riflettere perché veramente noi passiamo molto tempo della nostra vita con i paraocchi a non accorgerci del mondo che ci circonda ce ne accorgiamo solamente quando quella cosa ci viene a mancare è quasi sempre tardi e poi questo romanzo nasce da un altro incontro come vi dicevo prima mi trovavo una sera dinanzi alla grotta di Massabielle a Lourdes dove la madonna apparve per ben 18 volte a Bernadette è rimasto incolpito da da una scena d'amore amore vero amore puro quell'amore che io molte volte racconto nelle mie poesie nelle mie canzoni in ciò che vado comunque a scrivere e praticamente vi era questa ragazza bellissima su una sedia a rotelle e in braccio aveva un bambino e alle spalle vi era un uomo che pensavo che fosse il marito che la abbracciava allora l'amico che era in me che era vicino a me disse mi disse ci vuole veramente molto coraggio cioè nel senso la deve amare la deve amare molto per stare vicino comunque ad una donna sulla sedia a rotelle e allora gli dissi questo è l'amore perché lui molte volte mi aveva chiesto che cosa fosse l'amore per me io gli dissi questo è l'amore perché l'amore ti fa vedere oltre l'aspetto fisico oltre le semplici apparenze molte volte noi soprattutto al giorno d'oggi ci fermiamo alle apparenze giudichiamo e rispettiamo una persona per quello che ha e non per quello che è realmente la giudichiamo e la rispettiamo per il vestito che indossa per la classe sociale per il posto di lavoro che occupa e non riusciamo a vedere la persona che si cela dietro perché ognuno dietro una maschera noi vediamo solamente la maschera che noi vogliamo vedere non riusciamo a leggere dentro il cuore così come fanno i bambini perché i bambini nella loro semplicità nella loro purezza riescono a vedere dentro il cuore della persona e quindi molte volte questo ci porta a giudizi affrettati a mantenere certe distanze a giudicare una persona in basso a ciò che i nostri occhi vedono senza andare oltre ci fermiamo lì diciamo ci basta solamente quello che i nostri occhi vedono e ci basta cioè non riusciamo ad andare oltre forse perché non ci impegniamo abbastanza forse perché ci dimentichiamo di essere stati bambini perché se riuscissimo a vedere il mondo con gli occhi del bambino forse riusciremmo veramente a vedere la purezza e l'essenza vera di una persona e questo è il messaggio che voglio in questo modo dare nel mio romanzo la storia è la storia di Gabriele ed Aurora Gabriele è un ragazzo che gioca in una squadra di calcio della sua città il suo sogno è quello di diventare un campione di calcio di giocare anche in un giorno in Europa in Premier League ci riuscirà Aurora dall'altro canto è una ragazza che sin da bambina aveva la passione per la moda per gli abiti da sposa principalmente e riuscirà ad aprire un atelier con l'aiuto delle sue amiche dove disegnerà proprio gli abiti da sposa e li realizzerà entrambi vivono pensando dedicandosi al proprio lavoro alla propria passione al proprio hobby e non si accorgono di ciò che li circonda tant'è vero che non si accorgono nemmeno di essere l'uno il pezzo mancante dell'altra non si accorgono dell'amore che intercorre tra i loro arrivano solamente tardi a capire di essere veramente innamorati quando uno può dire di essere innamorato Aurora stessa ce lo dice o meglio la nonna le dice Aurora capirai di essere innamorata quando il tuo cuore batterà talmente forte che sentirai mancare il respiro e non riuscirai a dire più nessuna parola e quindi è questa la forza dell'amore d'altro canto Gabriele seguirà il suo sogno però poi il nefasto fatto diciamo così scriverà un po' la sua storia alla fine vincerà o non vincerà vincerà l'amore oppure no questo ovviamente non ve lo dirò perché non voglio rovinarvi la lettura per chi non lo avesse ancora letto quindi il mio invito è quello di vivere guardando il mondo con gli occhi al bambino perché così possiamo meravigliarsi ogni giorno per la vita che ci è stata donata per il semplice fiore di campo che nasce al bordo di una strada per l'albero piantato nel nostro giardino per per il cielo per le nuvole per ogni singolo istante della nostra vita bernadette diceva le apparizioni mi hanno cambiato la vita perché me lo sono chiesto tante volte ho letto molti libri su bernadette cercando di capire che cosa volesse dire quella frase le apparizioni mi hanno cambiato la vita perché bernadette in un certo quel modo più ricca non l'ho diventata famosa non l'ho diventata santa non l'ho diventata perché ha visto la Vergine ma perché ha saputo abbracciare nella sua vita l'esempio di Gesù e vivere pienamente la propria vita e quindi me lo sono chiesto molte volte e sono arrivato alla conclusione che la Vergine Maria gli aveva dato la possibilità di vedere il mondo con gli occhi del bambino e quando vedi il mondo con gli occhi del bambino tutto quanto il mondo ti sembra un mondo migliore ogni cosa assume un valore speciale una cosa che un valore che ti fa battere forte il cuore e ti fa innamorare ogni giorno ogni ora ogni secondo ogni minuto della vita che il Signore ci ha donato e solo così possiamo ringraziare ogni giorno torno per un attimo al mio anno di servizio civile a Lourdes molti mi dicono parlando di Lourdes se ho assistito o meno a qualche miracolo beh io vi dico di sì ovviamente non ho visto persone realizzarsi dalla sede del rotello eppure gambe o braccia ricrescere assolutamente no ho visto comunque persone tristi ritrovare il sorriso ho visto persone rassegnate ritrovare la gioia del vivere la gioia di amare persone che erano sole ritrovare un amico un fratello una sorella molte volte oggi siamo attratti da falsi idoli incontriamo il potere il denaro il successo ciò ci porta è vero ci porta a illuderci che quella sia la vera felicità ci illudono perché il denaro è un idolo subdolo ci illude di essere felici in realtà non lo è solo l'amore ci rende felici ed è per questo che all'illusione della ricchezza si preferisce la realtà dell'amore e questo parecchie persone lo capiscono quando quando nonostante abbiano il denaro nonostante abbiano il successo nonostante abbiano il potere si ritrovano soli essere da soli per l'uomo è la più grande sconfitta è la più grande sconfitta per l'umanità perché l'uomo non è fatto per vivere solo quando l'uomo si ritrova solo vuol dire che la sua vita ha fallito però può sempre può sempre ravvedersi e ricominciare cioè non è mai troppo tardi quindi è questo un po' il messaggio che ho voluto dare nel mio romanzo come dentro una bottiglia il messaggio a non scoraggiarsi mai nella vita a non rincorrere falsi idoli ma a circondarsi di persone non avere paura di avvicinarsi al prossimo di non fermarsi solamente all'apparenza molte volte ci fermiamo lì abbiamo paura di dire anche un semplice ciao alla persona che abbiamo di fronte perché abbiamo paura perché il nostro giudizio affrettato ci impedisce di andare oltre parecchie volte giudichiamo una persona senza conoscerla diciamo quella persona mi è antipatica senza però andare ad appurare se è così o non è così e molte volte quando poi l'andiamo a conoscere quando lasciamo vincere l'altra parte di noi che è la parte comunque dell'amore scopriamo che quella persona non è realmente come pensavamo noi ma che in realtà è una persona speciale è un amico speciale e quindi parecchie amicizie nascono così parecchi amori nascono così quindi questo è il mio invito a non avere paura ti avvicinaci al prossimo a non avere sempre quei pregiudizi quella cosa di dire io ho ragione lui no a non avere paura di amare perché oggi purtroppo si ha questa cosa qui avere paura di voler bene di amare perché si ha paura poi di di restare delusi la delusione spesse volte però fa parte comunque del voler bene quando io voglio bene una persona è chiaro che ci resto male se quella persona mi delude ma proprio per questo che mi deve portare a volere ancora più bene a quella persona ad amare ancora di più quella persona e a non fermarsi solamente a ciò che i nostri occhi vedono quindi è questo l'invito che voglio fare a tutti quanti voi amici amiche a chi ha letto il libro a chi lo leggerà a chi non lo leggerà è uguale di vedere il mondo con gli occhi del bambino solo così possiamo stupirci e meravigliarci di tutto ciò che ci circonda del mare del cielo e anche la pioggia che a volte può far paura alla fine può nascondere qualcosa di bello perché ricordiamo che non può piovere per sempre dopo la pioggia ci sarà sempre il sole ci sarà sempre l'arcobaleno dopo la notte ci sarà sempre il giorno ci sarà sempre un nuovo inizio ed è questo l'augurio che voglio fare a tutti voi solo così solo amando solo lasciandosi vincere dall'amore e battendo i pregiudizi che ci bloccano possiamo stappare il tappo e uscire dalle nostre bottiglie quotidiane in modo tale che il nostro grido venga accolto e che non resti solamente dentro di noi ma che abbracci tutti quanti e così potremo essere e gioire per la nostra vita ogni singolo giorno ogni singola ora ogni singolo istante alzare gli occhi al cielo e ringraziare il Signore per la vita che ci ha dato per questo bellissimo e magnifico dono e così possiamo dire come ha detto Bernadette le apparizioni mi hanno cambiato la vita e questo l'augurio che voglio fare a tutti voi vi ricordo che acquistando una copia di come dentro una bottiglia potrete contribuire al progetto solidale che io insieme ad alcuni miei amici abbiamo abbracciato da qualche mese a questa parte che abbiamo ribattezzato regalerò un sogno a sostegno dei bambini che purtroppo non hanno un pasto caldo e che non possono andare a scuola quindi parte del ricavato andrà a sostenere a dare un'aiuto a questi bambini posso dire che è una cosa che riempie di gioia vedere i bimbi e le bimbe sorridere per poco per niente voglio concludere perché me l'hanno chiesto in tanti con l'imitazione di Luca Giurato carissimi amici il mio più spettacolo saluto questa puttanata è finita e ci vediamo alla prossima puntata scusate se vi ha annoiato se vi è piaciuto questo video commentate e condividetelo con i vostri amici un abbraccio a tutti e alla prossima